Dal 4 gennaio del 2023 possiamo trovare nelle sale italiane Megan, il nuovo film horror prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, ma allo stesso tempo anche da James Wan, diretto da Gerard Johnston, regista che non conoscevo. Vedendo il trailer mi sembrava di trovarmi di fronte all'ennesimo film in cui c'è una bambola assassina, però sono andato a vederlo a luci di Bicocca con mio padre, fatemi dire, sala quasi del tutto piena, mi fa piacere che almeno durante le vacanze natalizie ci sia la voglia di andare al cinema, ed il film per quanto ne avessi sentito parlare benissimo perché avevo letto delle recensioni parecchio entusiastiche, vi posso dire che sì sia stato carino, ma che non sia stato niente di che. Fortunatamente non ci troviamo di fronte all'ennesimo horror orribile con esorcismi vari, gli occhi del diavolo, crucifixion di là, l'esorcismo di Anna Grace, però allo stesso tempo abbiamo già visto Annabelle, abbiamo già visto la bambola assassina, due film sicuramente superiori a Megan che comunque ha dei pro. Stavolta ecco che faremo la conoscenza di questa bambola, ma che è un androide, progettata apposta per diventare la migliore amica di chi la possiede. Facciamo la conoscenza di Gemma, che è la coprotagonista del film Nonché la zia di Kedi, una bambina rimasta orfana, la zia diventerà la sua tutrice, lei crea giocattoli per questa ditta, è praticamente una scienziata del giocattolo perché riesce a costruire dei prototipi di giocattoli molto costosi, solo Megan quando dovrebbe essere lanciata sul mercato si pensa che il suo costo possa girarsi intorno ai 10.000 dollari, quindi capirete voi che tipo di avanzamento ipertecnologico si avvicini al modello di giocattolo Megan. Comunque ecco che questo pupazzo che dovrebbe essere gentile, buono, educato e che non solo diventi un migliore amico di chi lo possiede, ma che forse possa prendere anche il posto di genitori, amici o parenti perché fa tutto, si rivelerà non essere poi del tutto così buono, ma tirerà fuori questa cattiveria insita dentro e lì tutto ciò che ne consegue perché la bambina verrà protetta da Megan a costo di mettere a repentaglio la vita altrui. Quando la zia se ne renderà conto bisognerà cercare di fermare questo androide ma non sarà facile, questa la trama a grandi linee, se andaste a vederlo non vi dovreste aspettare colpi di scena, non vi dovreste aspettare chissà quale sceneggiatura rivoluzionaria, anzi è un lungometraggio che assomiglia molto al remake della bambola assassina che per me non fu niente di che, sì carino ma messo a paragone con le idee di Don Mancini, con i film della saga su ciachi originali non gli legava nemmeno le stringhe, però sicuramente Megan è più sensato perché a me ha sempre fatto ridere nel remake della bambola assassina che lei diventasse così solamente perché si disattivava il filtro quello per i bambini, quindi praticamente se io andassi a prendere non lo so qualsiasi giocattolo oppure anche un qualsiasi apparecchio tecnologico che ho vado su sky e tolgo il filtro per i bambini per i programmi è come se mi si palesasse di fronte un mostro demoniaco, mi ha sempre fatto ridere questa cosa, potevano inventarsi qualcosa più intelligente in questo caso non dico che ci sia chissà quale spiegazione, però è questo androide così intelligente, così avanzato che studiando ciò che ha intorno, percependo, scoprendo, scovando qualsiasi informazione necessaria per acculturarsi come un moderno Ultron, ecco che prende il sopravvento sugli esseri umani e si ritorna al tema dell'uomo che crea un qualcosa di avanzato tecnologicamente parlando, Siri non mi rompere i coglioni, ecco perché parte Siri così io parlo di cose iper tecnologiche e parte Siri, quindi è tutto collegato, è tutto collegato, si ritorna al tema dell'uomo che crea un qualcosa di tecnologico che prende il sopravvento e si torna al 9000-2001 di Sia nello spazio, Megan è un film leggerissimo, il pregio più grande il bambolotto, cioè veramente quando si vede questo androide ci rendiamo conto di quanto sia stato realizzato perfettamente, a livello anche di computer grafica, a livello proprio di messa in scena riesce a creare inquietudine ma soprattutto è forte il contrasto fra la sua bellezza e l'inquietudine che crea quando mostra la sua cattiveria. Il difetto più grosso è che è un film che dovrebbe essere horror vietato ai minori di 14 anni che tutto è tranne che, non so, un film dell'orrore perché quando ci si trova di fronte anche alle uccisioni sono edulcorate che sembra di vedere Venom di Ruben Flescher. Voglio dire, cosa l'avete vietato ai minori se poi ogni uccisione è così, non lo so, all'acqua di rose? Fatemi vedere un po' più di sangue, fatemi percepire la cattiveria di questa Megan, cioè bisogna fare dei passi avanti da Chucky e da Annabelle ma in quei due film, caspita se io avevo sia paura e anche in dei momenti mi ritrovavo a dire, non mi aspettavo fossero così espliciti, qua no, qua assolutamente no. A parte le morti sono un po' assurde, secondo me si poteva lavorare in sceneggiatura anche su come si facesse uccidere le persone a Megan perché le morti non mi hanno lasciato niente, ogni volta mi aspettavo qualcosa in più ma erano proprio buttate lì, anzi alcune esagerate, quindi ecco il vietato ai minori di 14 anni si poteva assolutamente evitare. È un film che si prende i suoi tempi nel primo e nel secondo atto e questa cosa mi fa anche piacere perché non è un film horror, tra virgolette, tirato via, quindi la parte della vicinanza fra Megan e Cady viene raccontata, un rapporto difficile fra la zia che pensa solo al lavoro e la nipote viene messo in scena, viene esplicitato, viene illustrato, poi ad un certo punto ci si arriva, ci si avvicina, scusate, al finale e quindi bisogna mettere la bambola lì assassina che vuole uccidere, che vuole prendere il sopravvento sull'essere umano, boom boom boom, con un epilogo piuttosto prevedibile ma non vi rivelo adesso niente nella parte generale, quindi che posso dire? Io l'ho visto volentieri, è più un film di fantascienza, tinte drammatiche con qualcosa di horror qua e là, che è un film dell'orrore vero e proprio, perché come vi ho detto fino ad adesso e non voglio essere ripetitivo, le parti che dovrebbero essere di paura non lo sono, anzi si edulcora il più possibile, non si capisce quindi perché sia stato vietato ai minori di 14 anni, ma al box office non sta andando male, penso che Megan potrebbe tornare più e più volte creando una nuova icona, come è stata Annabelle, come è stata e lo è ancora Chucky, però ecco non vi aspettate di andare a vedere quel film come poteva essere il primo Annabelle che a me, al netto delle critiche che sento fare da tanti, piace molto e mi spaventa, come poteva essere il primo la bambola assassina, è un film più leggerino, che intrattiene comunque perché coinvolge, che arriva alla sufficienza, ma quando ho letto delle recensioni che magari citavano già nel titolo, dimenticatevi Chucky, dimenticatevi Annabelle, Megan diventerà bla bla bla, no ragazzi io mi tengo stretto Chucky, mi tengo stretta Annabelle, Megan ripeto potrebbe essere iconica e potrebbe essere un personaggio innovativo visto che c'è questo aspetto iper tecnologico che siccome non ha funzionato nel remake della bambola assassina viene inserito qua, potrebbe essere veramente ben sviluppato anche come franchise, ma serve secondo me innanzitutto un regista più capace perché Gerard Johnston a livello registico è più bravo ecco nel andare a fondo introspettivamente sui rapporti che non vanno bene fra nipote e zia che quando deve dedicarsi alle scene esplicite di paura horror, cioè gli omicidi sono da piccoli brividi, solo che piccoli brividi dovevano rispettare anche dei target di età, Megan no, Megan addirittura lo vieti quindi sì la Blue Mouse sforna questi film e sa come guadagnare ma non è quel lungometraggio così sorprendente di cui ho sentito parlare in svariate recensioni. Sono stati bravi gli attori a partire da Alison Williams nei panni di Gemma, la zia Violet McGrew nei panni di Cady ma anche Megan che in realtà è interpretata da Hermie Donald però cioè è un film che proprio si lascia guardare carino ma che nel senso da come ne avevo sentito parlare mi faceva molto più ben sperare ma sarò curioso di sapere la vostra, i momenti più secondo me riusciti sono quelli in cui la bambola si presenta e esteticamente colpisce oppure i momenti in cui balla, i momenti in cui canta, i momenti in cui ispeziona ciò che ha vicino a sé e quindi studia e quindi capisce. Si crea secondo me tanta enfasi sulla sua realizzazione, ci si sofferma molto su questo suo apprendere e poi quando dovrebbe scatenare la sua ira il tutto finisce nel giro di un attimo. Dura già più di un'ora e mezzo il film quindi non è che sia il classico orrorino da un'ora e venti però ecco vi chiedo di farmi sapere la vostra nella sezione commenti mentre adesso farò una minima parte spoiler per rivelarvi più nello specifico ciò che mi abbia colpito e ciò che non mi abbia invece sorpreso. Nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale sapendo che se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Allora già all'inizio non mi è piaciuto perché l'incidente dove poi sopravviverà solo Kedi è mal realizzato a livello di effettistica non mi è piaciuto a livello proprio anche di scrittura l'ho trovato proprio buttato via tutti aspetti che succeda qualcosa lo sai già non c'è la minima sorpresa però vabbè la bambina resta orfana sta con la zia e mi sono piaciuti tutti i momenti in cui si nota che ci sia un po' di scoglio fra la zia e la nipote bisogna cercare di trovare un punto in comune perché Gemma pensa solo al lavoro è una sviluppatrice di videogiochi e di scusate di giochi ed è così brava che nemmeno Tony Stark per come te la mostrano in un attimo riesce a far rifunzionare il robot e io quando ho visto quel robot ho detto ok alla fine si scontrerà con Megan ed è così quindi molto molto prevedibile però anche a livello interpretativo è stata brava Alison Williams Violet McGrew sono stati molto bravi gli attori scelti ad un certo punto quando la bambola dovrebbe entrare in azione già quando vuole uccidere il cane della vicina cioè c'è un minimo jumpscare buttato lì inutile poi però non ti fanno vedere mentre lo uccide quando quel bambino violento e volgare dà fastidio a Caddy appare la bambola sì la vediamo che corre il bambino cade viene schiacciato dalla macchina ma la scena in cui gli strappa l'orecchio è fintissima proprio si vede che è gomma e non mi è piaciuta come è stata realizzata quando uccide la vicina di casa che comincia con la canna dell'acqua a bagnarla infradiciarla proprio delle morti blande dove se si vede uno schizzino di sangue qua e là è tanto ma vi ricordate ciacchi ma pensate solamente anche ad Annabelle in cui lì c'era l'aspetto sovrannaturale demoniaco però c'erano delle scene che facevano paura qua l'ho trovato talmente e forzatamente magari tagliuzzato nei suoi momenti più espliciti per renderlo visibile a tutti che proprio non mi spiego il vietato ai minori di 14 anni non lo so capire quindi questo è il difetto più grosso se lo salvo è perché ogni sequenza con la bambola che parla con Caddy che prende il sopravvento anche su Gemma quindi ogni momento in cui l'horror non c'è per assurdo mi è piaciuto cioè solo per l'estetica della bambola per come è stata realizzata per quanti e interessanti sviluppi potrebbe avere in futuro io riesco a salvare Megan ma sì c'è poi il finale in cui anche quella sorta di Alexa si illumina come se avesse avuto un collegamento con la bambola come se la bambola grazie alla sua intelligenza artificiale fosse finita lì dentro non lo so vediamo cosa accadrà vediamo il riscontro finale al box office però ecco è un film che si lascia guardare ma dimenticatevi di star guardando un film horror è un film a tinte horror ma c'è la sceneggiatura di Akilah Cooper si riesce a salvare quando si parla di dinamiche familiari di dinamiche più drammatiche ma quando si dovrebbe puntare sul vero orrore con la bambola che ormai intelligentissima e sicura di sé prende il sopravvento sugli esseri umani il tutto lascia un po' a desiderare però fatemi sapere la vostra capirei se lo bocciaste così come capirei se come me lo consideraste sufficiente e niente più un caro saluto ragazzi noi ci vediamo alla prossima recensione